Dottor De Bonis, oggi una conferenza stampa di liberi agricoltori e granosalus per riportare al centro la salubrità del cibo prodotto dall'agricoltura italiana e per difendere la stessa agricoltura italiana da un momento nero praticamente per il settore. Quali le azioni che voi esigete dal governo? E innanzitutto trasparenza di mercato, trasparenza nelle informazioni ai consumatori, trasparenza nei flussi internazionali, maggiori controlli, revisioni dei limiti sui residui dei contaminanti, questa è l'impalcatura. La cornice, la ciliegina sarebbe quella di un marchio d'aria che tuteli tutto il sud, dove questa eccellenza è paragonabile solo a quella del desert durum americano e ciò consentirebbe di far uscire fuori dai listi internazionali il gran italiano e di metterlo al riparo da speculazioni finanziarie, da operazioni molto avventuriere che sui mercati esteri spesso accadono e che vedono sempre più concentrare su questa questione, l'Ucraina lo ha dimostrato quanto sia cruciale per la fame nel mondo e la popolazione internazionale disporre di grandi quantitativi di queste derrate. Questo è un cibo prezioso per noi, è uno dei cibi migliori, alla base della nostra dieta mediterranea, merita un'attenzione urgente da parte del governo. Il governo si sta preoccupando di mettere la golden power su Pirelli e su altre aziende, ecco l'agricoltura del mezzogiorno meriterebbe una golden power per tanti problemi che la affliggono ma senza interventi che siano costosi, onerosi, ma con regole certe, con regole sicure e trasparenti, questo noi chiediamo, noi non chiediamo la luna nel pozzo, chiediamo che il governo preste attenzione per tutelare la salute pubblica aiutando i produttori a produrre cibi di eccellenza e mettendo a posto quelle norme che spesso lasciano dei vuoti, delle zone d'ombra in cui si annidano le speculazioni, abbiamo visto nonostante sia stato allertato al ministero Mr. Prezzi, la materia prima scende, il prezzo della pasta sale, non c'è nessuna intenzione di rivedere questi trend che cosa vuol dire? Che la sovranità non è nelle mani dei produttori o dei consumatori, la sovranità è nelle mani degli industriali e dei commercianti e così non va bene perché spesso qui si annidano sacche di speculazioni che invece andrebbero combattute.